Caffè 24, Radio Genius e Fiasp presentano Podismo Informato. Ben ritrovati amici e benvenuti a Podismo Informato. Il Podismo Informato ovviamente è quello della Fiasp, non esiste altro. Allora intanto benvenuti dicevo, ancora una volta grazie ad Andrea Gusella che è con noi. Buonasera a tutti. Diciamo subito una cosa rapidissima, se state vedendo la versione primaria, ovvero sia quella del mercoledì alle 18.45, siete ancora in tempo per l'ultima puntata del Paleo Run. Perché dalle ore 20? Alle ore 20.30, partenza da Villa Guattera di Rubano, è l'ultima uscita prima della pausa estiva e poi ci rivedremo i primi settembre. Sarà l'occasione per parlare di quelle che sono le novità che andremo a proporre con la nostra iniziativa del 2015-2016 e chiudiamo la serata in compagnia con un bel pasto party. Ecco, quindi questo è ovviamente però per chi riesce a sentire e a capire le notizie il mercoledì. Nella parte radiofonica del venerdì e se invece sia nella replica di sabato ovviamente questo avviso non vale. Con ciò però abbiamo cominciato per ricordarvi che noi cerchiamo di darvi le cose nella maniera più tempestiva e questo era l'ultimo appuntamento di Paleo Run. Che è stata però una bella soddisfazione vorrei dire, no? È stata una bella esperienza, è stato un momento diciamo così di creazione di situazioni molto belle all'interno di un territorio molto ampio perché comunque ricordiamo che è un'iniziativa che riguarda i comuni di Padova, di Villa Franca Padovana, di Rubano, di Mestrino, di Salvazzano Dentro e iniziative che hanno proposto sempre percorsi diversi e quindi non sono state mai sicuramente ripetitive. La rispondenza è stata buona, è una prima edizione che ha dato decisamente buone soddisfazioni e una buona premessa per l'attività che si presenterà l'anno prossimo. Ecco, quindi cominciare già a fare un bel bilancio, no? Perché soltanto si aspetta a fine anno e invece c'è anche il bilancio estivo perché ha fatto le manifestazioni che sono iniziate d'inverno e finiscono nell'estate per riprendere poi in autunno. Quindi direi che è un momento di bilancio già buono per determinate iniziative. Sì, a dispetto di quello che è l'annuario nazionale che parte dal 1 gennaio e finisce al 31 dicembre in realtà per quanto riguarda l'abitudine nella provincia di Padova è quella di avere una stagione che inizia a fine agosto, primi settembre e finisce in questi ultimi anni sempre più avanti nel tempo e poi stiamo arrivando diciamo ormai come quest'anno alla fine di luglio per quanto riguarda quelle che sono le iniziative calendarizzate. Poi ci sono altre iniziative, ne parleremo poi, che sono invece iniziative che comunque sono presenti durante il periodo di agosto per cui di fatto il podismo non si ferma mai e forse il podismo padovano in quanto tale migra un pochettino nelle vicine province e di questo ne parleremo poi. Ecco, intanto andiamo a vedere però quelli che sono gli appuntamenti proprio qua incipienti. Dove andiamo a correre? Allora, per quanto riguarda le iniziative del prossimo fine settimana come dicevamo abbiamo in calendario e ripetiamo, stiamo parlando oggi che è mercoledì che andiamo in onda e facciamo ancora tempo a parlare di due appuntamenti di venerdì che sono l'appuntamento di Family Pizza Run di Bertipagli di Maserà di venerdì sera alle ore 20.30 organizzata dai podisti Maserà e da Corri che Isola un altro allenamento che fa la chiusura venerdì sera a Piave di Sacco. Dopodiché, per quanto riguarda le iniziative della Padovane calendarizzate come manifestazioni diciamo così, chiudiamo i battenti e ci rivediamo a fine agosto. Domenica, quindi, quello che andremo a proporre sono sicuramente due iniziative nelle vicine province dove abitualmente i podisti padovani si spostano e sono sicuramente la 31esima marcia podistica tra le contradi di Vestanova che è in provincia di Verona che è anche raduno provinciale e interessantissimi come percorsi sono percorsi montuosi nella zona famosa per il museo preistorico e sono tre percorsi da 8 km, 11 e 19 km c'è poi la possibilità di pranzare pranzare in loco alle 12, 12 e 30 ed è una manifestazione, ripeto, organizzata nell'ambito del programma del Comitato Provinciale di Verona dopodiché abbiamo come altrettanto importante alternativa la 34esima marcia delle Malghe che si disputa a Caltrano nell'ortopiano di Asago in questo caso è una manifestazione che propone percorsi di 6, 12 e 26 km questa manifestazione è omologata dal Comitato Provinciale di Vicenza per cui si corre e si continua a correre con Fiasp anche fuori provincia di Padova io vorrei dire però che se non leggevo male in quella che vedevo adesso scorrere da te cioè la copertina dice andiamo quota 1300 sul livello del mare quindi non è che corriamo in pianura no, non corriamo assolutamente in pianura corriamo nell'altopiano per cui in questo periodo c'è una grande proposta di iniziative montane e culinari e ci sono poi moltissime manifestazioni che proliferano proprio in quelle che sono le zone turistiche di villeggiatura più importanti del nostro comprensorio per cui effettivamente questa è una bella manifestazione da considerare ecco, quando si vanno a fare le marce a 1300 metri c'è da sapere qualcosa in più? c'è da aspettarselo? cioè per chi è abituato ad andare in pianura come deve regolarsi? ci sono delle cose un po' particolari? insomma un po' all'altezza andrà calcolata immagino? beh, sicuramente la prima cosa che viene fornita a livello di informazione da parte degli organizzatori sono i livelli di difficoltà dei percorsi per cui si danno dei parametri di riferimento per quanto riguarda il tipo di impegno che proprio le manifestazioni impongono per cui se prendiamo ad esempio la manifestazione di Veste Nanova il percorso viene dichiarato percorso verde un percorso facile collinare quello di 8 km è una difficoltà media il percorso blu di 11 km e viene definito rosso e con molto impegnativo su collinare il percorso di 19 km per cui ci sono dei tratti che sono magari di ghiaione o piuttosto di salite o discese impegnative chiaramente tutto ciò che si fa deve essere rapportato alla propria preparazione e all'attenzione di quello che è il percorso e del fondo che ci troviamo ad affrontare quindi in particolare attenzione poi a quelli che sono appunto quelli che sono poi i corretti comportamenti che normalmente sono richiesti per chi ama anche andare a camminare in montagna l'attenzione a non muovere sassi piuttosto che non correre diciamo così in maniera in consulta perché chiaramente il rischio di infortunio è molto elevato non solo per se stessi ma anche per gli altri ci sono delle differenti calzature da utilizzare eventualmente o si può andare con le solite proprie scarpe normali chiamiamole così sicuramente dipende da come ci si muove esistono delle calzature in questo caso possiamo parlare per chi ama camminare in montagna all'utilizzo di calzature da trekking mentre probabilmente chi ama correre preferisce usare una scarpa da trail quindi una scarpa che tendenzialmente ha un grip maggiore rispetto alla calzatura da strada sono un po' più danno un po' più stabilità all'appoggio e sono più diciamo così ancoranti al fondo e hanno delle caratteristiche sicuramente per essere utilizzate su terreni ghiaiosi o piuttosto che sterrati quindi sì non si può andare a correre o a camminare con una scarpa diciamo così una scarpa da tennis o una scarpa in poio ecco ecco quindi però queste sono cose che dovrebbero sapere già gli addetti ai lavori cioè quelli che di solito vanno a correre i neopiti magari è meglio che si informino sì sicuramente è opportuno per la propria caratteristica magari sia di corporatura che di peso che chi pratica vuole praticare lo sport con con la maggior sicurezza si rivolga a quelli che sono molto molto preparati professionisti che propongono diciamo così articoli sportivi in particolar modo calzature per il running o per la camminata e questi sapranno sicuramente indicare loro quali sono i migliori articoli adatti al proprio modo di muoversi quindi proprio a livello personalizzato andiamo sicuramente sì perché ci sono calzature che possono essere diciamo così compatibili con un determinato appoggio del piede e sono incompatibili con un altro per cui sicuramente la calzatura è un abito che devi sentire indosso come tuo e quindi è opportuno che siano fatte in maniera molto personalizzata quindi deve essere assolutamente una cosa personalizzata quindi insomma per un neopita uno comincerà sì con la classica scarpa da tennis voglio dire se fai 2-3 km 4-5 finché fai i primi allenamenti poi quando comincia a entrare nel giro però un po' guardando gli altri un po' parlando con gli altri magari si si sistema un po' sì probabilmente la calzatura riveste oggi diciamo così l'articolo principale di quello che è l'abbigliamento di un podista in termini di importanza però via via ci si accorge che anche quello che è il materiale tecnico che viene utilizzato dalla maglietta piuttosto che al pantaloncino assumono delle importanze sempre più rilevanti per cui diciamo così via via crescendo anche con la propria preparazione si affrontano anche argomenti e tematiche relative all'abbigliamento che portano magari ad abbandonare un capo in cotone ad assumere magari un capo tecnico di un certo tipo piuttosto che un giumbino un windstopper alta visibilità che sono quelli che stiamo cercando sempre di proporre per chi fa attività notturna diciamo così che ci sono una serie di step per i quali diciamo così si cresce anche nella formazione nel modo di fare sport ecco in alcuni casi io ho visto questo è un ricordo anche dai tempi dello sci eccetera c'era una persona che si compravano tutte le cose perché erano li guardavi e diceva mamma mia questo come minimo fare gli olimpiadi e poi faceva faceva la pistina facile facile perché se niente niente andava su una rossa già non usciva più allora forse un po' la voglia nell'avvicinarsi la voglia di esagerare di prendere articoli tecnici anche troppo costosi e troppo belli poi se ora non ci sa correre che facciamo no diciamo che prima di tutto la valutazione sull'articolo è legata molto al proprio benessere è chiaro che una calzatura corretta consente diciamo così di prevenire infortuni e avere diciamo così un appoggio del piede corretto che porta magari ad avere vantaggi dal punto di vista fisico perché poi non solo nel ritmo anche proprio a livello posturale piuttosto che a livello di diciamo così di articolazioni per cui la calzatura ha un compito ben preciso il capo d'abbigliamento chiaramente offre sensazioni di freschezza piuttosto che di tutela termica nel momento in cui ci si muove si suda sono quelle sensazioni per cui ad esempio rimani asciutto diciamo così sulla pelle e hai questa diciamo così questa estrazione dal corpo del sudore per esempio che può essere molto una sensazione molto diciamo così piacevole specie quando si fanno lunghi tratti ecco facciamo un piccolo salto indietro cosa è successo invece di cosa possiamo ricordare delle ultime cose che avevamo presentato c'è qualcosa che abbiamo anzi su cui parlare perché intanto so che di solito le manifestazioni sono sempre uscite benissimo e questo ci fa estremamente piacere soprattutto perché la getta è bella precisa ci va ma in orario sono queste le belle cose che fanno capire la passione sì allora abbiamo avuto un fine settimana che avevamo preannunciato ricco e per quanto riguarda i due appuntamenti che abbiamo avuto sabato e domenica sicuramente su di loro è un po' pesato quello che era l'instabilità atmosferica per cui l'estate avanzata l'instabilità hanno fatto sì che ci fossero parecchie defezioni però nel complesso si tratta di un ottimo risultato per entrambe quindi abbiamo avuto la Run 5 Woman che ha avuto circa 300 presenze sabato sera a Cittadella e un buon inizio per quanto riguarda la marcia del Carmine di Lusia che ha avuto circa 400-450 partecipanti sono diciamo così prime iniziative molto carine molto belle che hanno diciamo così che partono magari pianino ma sapranno sicuramente dare delle soddisfazioni agli organizzatori e anche a noi perché comunque trasmettono un buon messaggio per quanto riguarda la pratica dell'attività ludico-motoria nel territorio ecco allora adesso come ci dobbiamo portare in vacanza abbiamo detto beh le scarpette sicure no? ovunque si va tanto le scarpette e poi? e poi non dimentichiamoci che possiamo muoverci ancora anche qui a Padova durante tutto il mese di agosto con alcuni appuntamenti che sono diciamo così ricorrenti quindi non serve andare via si può stare in vacanza no beh diciamo che chiaramente chi può andare via vada tranquillamente in vacanza e abbia diciamo così magari verifichi sul sito Fiaspitalia piuttosto che sull'annuario nazionale quali sono gli appuntamenti che si svolgono lì vicino e magari partecipa oppure per chi rimane a Padova invece ricordo che il mercoledì sera alle ore 19 a Turri di Montegrotto c'è il ritrovo degli amici dei turisti di Montegrotto che organizzano la Tartaran è un allenamento collettivo settimanale si disputa tutti i mercoledì partenza alle 19.30 percorsi di circa 7 chilometri 7 chilometri e mezzo sterrati collinari in questo caso si raccomanda di indossare indumenti alta visibilità e per chi è possibile si porti appresso lampada frontale e borraccia d'acqua la partecipazione è gratuita per i tesserati FIASP mentre per i non tesserati si richiede la quota per il tesseramento ultimo ma non ultimo l'appuntamento del giovedì sera della Samarran che giovedì 30 luglio si disputa a Ponte San Nicolò presso il Boomerang Club e il 6 agosto invece ritrova ad Albignaso con lo stadio comunale ritrovo ore 19.30 partenza ore 20.30 sempre percorsi tra gli 8 e 9 chilometri per quanto riguarda i runner e 5 chilometri per quanto riguarda i camminatori insomma quindi ce ne sono da fare di cose non serve obbligatoriamente andare in vacanza si può divertire anche qui no l'unica raccomandazione che possiamo fare ai nostri podisti e quelli che vediamo sempre in giro ad allenarsi lungo le strade attenzione specie le strade prive di marciapiedi in particolare si raccomanda di correre al lato sinistro della carreggiata sempre perché comunque correre a camminare perché comunque sarebbe previsto dal codice della strada il pedone dovrebbe andare a sinistra già dal codice della strada quindi attenzione perché in caso di incidente non si sa mai che non vi vengono a contestare anche il fatto che non eravate nel lato giusto della strada sì ma prima di avere l'incidente quantomeno cerchiamo di fare una buona prevenzione quindi è quello che è fondamentale diciamo così cerchiamo di prevenire ecco allora ci sono come le biciclette la possibilità di avere le piccole lucettine la luce frontale quella posteriore assolutamente sì esistono in commercio delle mini delle mini pile frontali con a led che danno una buona visibilità per quanto riguarda il proprio l'appoggio ma non solo diventano anche elemento di segnalazione della propria presenza in strade buie oppure ci sono delle micro diciamo così lampade intermittenti che vengono applicate al braccio quindi ci sono una serie di presidi oppure le fasce catarifrangenti almeno quelle che sono il minimo che si consiglia di usare perfetto noi siamo alla fine anche della nostra puntata e che possiamo dirvi come al solito voi non potete fare altro che mettervi le scarpette e andare grazie Andrea Gusella e appuntamento ovviamente alla prossima puntata grazie a tutti Caffè24 Radio Genius e Piasp vi hanno presentato Podismo Informato finché fuori Grazie a tutti Grazie a tutti